e invitare immediatamente sul palco l'anima vera di questa manifestazione il prez, il nostro presidente, Franco Lomonaco un applauso, coraggio, fatevi sentire Franco, io ti lascio direttamente la parola così almeno fai tutto tu e poi vado con le band grazie Jack, l'anima vera non sono io, siamo noi è l'associazione, quindi l'associazione vuol dire tutti i volontari che hanno partecipato a preparare questa bella cosa e tutti voi che date un sostegno all'associazione il sostegno si dà con il cuore, si dà anche con dieci miserabili euro che possono essere quelli che ci aiutano a sostenerci e potete fare la tessera se non l'avete fatta qui al nostro banchetto di fianco dove ci sono anche in vendita i dischi degli artisti che partecipano al festival allora io volevo ringraziare innanzitutto l'amministrazione comunale di Brivio perché ci ha sostenuto veramente in maniera egregia ringrazio tutti i volontari che hanno prestato la loro opera per organizzare questa bella cosa ci abbiamo messo il cuore, ci abbiamo messo la fatica perché quest'anno dopo i fatti dell'anno scorso a Torino dove c'è stato come sapete una grandissima varaonda per quanto riguarda la finale di Champions League dove è morta una persona eccetera è successo che il ministero dell'interno ha emanato delle direttive di sicurezza particolari per cui sembra niente ma anche per una nostra piccola chiamiamola piccola ma è una cosa che interessa molte persone sono sicuro che dopo ne arriveranno altre abbiamo dovuto faticare molto di più spendere più soldi, impegnarci di più perché le direttive di sicurezza sono molto più stringenti un esempio stupido, guardate come sono legate le sedie non è perché l'abbiamo voluto fare per penalizzarvi ma è perché deve essere fatto così e va già bene che sia così quindi intanto vi ringrazio tutti per essere venuti vi auguro buon ascolto, buon festival e rilascio la parola a Jack ma signori è un bel presidente è un bel presidente, grande Franco Lomonaco allora veniamo a noi, veniamo a noi questa sera ci saranno due grandissime performance cominciamo con la prima io comincio immediatamente a dire che alla vostra sinistra nonché al centro qua potete vedere l'ultimo album uscito di questa band è del 2016, è di due anni fa e la carica esplosiva che c'è all'interno voi la potrete ascoltare, perdonatemi e gustare su questo palco arrivano direttamente da una zona meravigliosa non lo dico peraltro ma perché vivo, diciamo, ho una casa a pochi chilometri da lì ed è veramente meravigliosa si ascolta veramente dell'ottima musica io non aggiungo altro se non invitare qui sul palco per dare inizio alla sedicesima edizione dell'Italian Blues River Festival Fabio Marza Band